Buongiorno a tutti, con il migliore in campo Sky, offerto dallo sponsor Fanta Domenico Cecere, autore di una temprenza. Allora, Domenico, cosa ci vuoi dire? In psicotetica quest'anno è l'apprenditazione, con i suoi due dicono che sei stato stronato dal cambio di allenatura, quella attuale. In realtà, la media è forse che non è un'unità, abbiamo fatto una vittoria di gruppo, ma Domenico è importante vincere e non i pergolini. Poi ringrazio comunque la scivolata di Mario Schiano che ci ha portato poi al gol della vittoria. E quindi cosa pensi poi dello scatto che è stato fatto in classifica rispetto a Gianni Cedrito e rispetto a Bomber Zinco? Consiglio a Gianni di rimangiare meno torse il sabato sera e di allenarti da conoscenza a fare l'uomo. Questo è un giro di tutto quello che ho fatto fino a tempo. Abbiamo ora finifici con il laterale Angelo Cesaro, protagonista di una discreta partita, anche se un po' anotica. Il primo tempo, Angelo, cosa hai dovuto questa pensazione con l'Urlander? Magari alla partita sulla settimanale di Coppa Campania? Sì, è dovuta maggiormente... Eh, non puoi! Non puoi! Sì, è un po' anotica!